Consigliere Ranieri, oggi lei ha presentato questo progetto PiPlanet, si parla di sviluppo sostenibile e anche di una serie di incontri che lei terrà proprio per parlare di sviluppo sostenibile? Sì, terremo parecchi incontri, il primo sarà sabato a Sulmona, poi ci sarà Celano e poi tanti altri da cui anche Chieti, Teramo, Pescara. Sì, io parlerei più che di sostenibilità, parlerei di rinnovabilità e rigenerabilità, perché la sostenibilità ha bisogno di tutta una serie di concetti aggregati che specifichino che tipo di sostenibilità è. Ora, noi dovremmo parlare allora di sostenibilità molto forte, ma in realtà quello che si vuole fare è rigenerare più che sostenere, quindi passare dalla conservazione alla rigenerazione del patrimonio naturale. Saranno questi incontri, ma poi lei andrà anche oltre? Sì, sì, assolutamente, è un progetto integrato che prevede la costituzione di una comunità e poi di un gruppo di lavoro che si occupi di portare sul territorio un nuovo modo di fare economia, partendo dalle risorse del territorio. Quindi saremo in contatto naturalmente con tutti, imprenditori, associazioni, piuttosto che enti pubblici, per utilizzare quelle che sono le risorse territoriali e cambiare il modo in cui queste risorse vengono usate pensando ai benefici per tutti, piuttosto che il profitto per pochi. La sanità è uno dei bisogni primari, noi per costruire resilienza nelle comunità dobbiamo operare su sei bisogni fondamentali, questi bisogni sono cibo, acqua, alloggio, sanità, istruzione e energia. Se noi riusciamo a ricostruire questi bisogni, a soddisfare questi bisogni per le comunità, costruiamo resilienza. Ora, è chiaro che, quello che dicevo prima, bisogna cambiare le domande. Quindi io, per esempio, per quanto riguarda la sanità non mi devo chiedere come faccio a curare più persone possibile, mi devo chiedere come faccio a non far ammalare più persone possibile. E questo è un modo diverso di concepire anche l'economia, perché questo significa che io devo mettere valore nelle cose. Un modo per non far ammalare le persone è dare alle persone cibo sano.